ciao a tutti e benvenuto al nuovo video dell'impero delle tenebre oggi avrei voluto parlare di final fantasy pixel remastered che secondo me appunto è una serie di giochi molto bella uscita già da tempo sugli smartphone e che però io volevo appunto giocare su console alla fin fine sono arrivati arrivati su ps4 e switch se non se non sbaglio io ho preso la versione ps4 e adesso lo sto provando in retro compatibilità sulla ps5 perché mi viene meglio per fare i video però effettivamente a livello qualitativo non c'è differenza proprio perché essendo giochi 2d non vanno a diciamo avere un upgrade grafico notevole come altri giochi è un po il motivo anche per cui la square non ha fatto pigramente una versione ps5 di tetrim final lanbar perché effettivamente non non hanno questo grande miglioramento però c'è una cosa da dire innanzitutto sono in italiano e già questo è una cosa interessante volendo si può mettere il carattere classico che è una cosa che aveva fatto molto discutere perché in molti si erano appunto lamentati sia del del font che delle musiche perché sono modernizzate ma effettivamente io voglio provare quella versione moderna perché la versione vecchia l'avevo già giocata quindi effettivamente questo io lo prendo come un nuovo gioco e la cosa che mi ha un po lasciato diciamo basito a parte il fatto che come vedete ha anche delle notevoli aggiunte come la riproduzione musicale quindi possiamo sentire sin da subito tutte le varie canzoni che vogliamo il bestiario invece si sblocca man mano che giochiamo è sincronizzato diciamo con il salvataggio la galleria invece da quello che vedo è già disponibile per tutto quindi andiamo un po anche a vedere nascondiamo la finestra gli artwork di yoshita kamano che a me è sempre piaciuto tantissimo e nei primi final fantasy era veramente onnipresente si notava poco nella pixel art sino diciamo al 4 però i suoi disegni e poi anche gli artbook sono meravigliosi e poter avere queste galleri è secondo me una cosa davvero fantastica quindi già solo per questo è una figata il problema è che io mi aspettavo un pack un bundle è un po tipo quelli di megaman che contenessero più giochi invece c'è il il bundle con i sei giochi gli avatar e i temi per ps4 ma comunque poi i giochi sono singoli quindi io adesso sto giocando final fantasy il primo e perciò volevo fare un video che parlasse un po di tutti facendoli magari partire una alla volta e invece mi sa che farò ben se sei video è in cui andiamo a provarli tutti quanti allora qua la fantasia verrà messa alla prova si dovrebbe essere una ragazza quindi qua siamo precursori e questo non lo so però è quello cazzuto chiamiamolo rioma anzi il ladro mago bianco mago nero fatto e il bello di queste pixel remastered è che hanno adottato una tipologia di grafica non proprio come octopat traveler ma comunque rimasterizzata appunto con i pixel sono andati a ricostruire in pixel art in versione moderna i giochi di un tempo infatti non so se lo notate perché magari adesso siete abituati tutti quanti ad avere i giochi a tutto schermi in 16 noni ma all'epoca erano in 4 terzi quindi già qua abbiamo una visualizzazione della mappa molto diversa e anche diciamo gli effetti di luce e contrasti sono modernizzati infatti poi penso che andrò anche a giocare i vecchi titoli per farveli vedere e fare appunto un confronto perché li avevo presi su playstation 3 perché c'era la possibilità di giocare i giochi ps1 e quindi i primi final fantasy qua viene ricreato un po il mod 7 che permette appunto questo effetto tridimensionale con il 2d ma come vedete anche dalle scritte e dicevo già anche prima i giochi sono in italiano che è una cosa nuova perché se non ricordo male appunto anche le versioni ps1 e psp erano comunque in inglese perché avevano fatto semplicemente il porting dei giochi originali quindi quelli del nes e dello snes io purtroppo nonostante sono abbastanza vecchiotto non ho mai giocato quelli originali ho incominciato a giocarli appunto da final fantasy 7 su playstation 1 e poi le collection che sono uscite dopo perché effettivamente erano i giochi che riproponevano come classiche su ps1 e allora avevo recuperato tutti e sei i final fantasy classici quindi possiamo anche attivare e disattivare gli scontri che è una funzione nuova che hanno messo come anche avevano fatto in final fantasy 7 8 e 9 che avevano una rimasterizzazione in realtà uguale diciamo a quella classica con giusto un po' di miglioramento per i personaggi poligonari e invece per i fondali c'era il disagio però effettivamente possiamo velocizzare gli scontri e è una cosa che non è affatto da sottovalutare stavo cercando, no perché si fa col triangolo naturalmente di fare anche il salva magia, configurazioni partire dal livello 1 che è una cosa molto classica e anche le musiche riarrangiate sono molto più diciamo figose partiamo con il combattimento volevo un attimo vedere di tornare al castello di corneria e anche il fatto che appaiano i tre puntini e anche la mappa del castello mi sa che è una cosa che non c'era in quello vecchio devo appunto rigiocarlo diciamo che l'incipit ci butta lì sulla mappa ma non dal personaggio la differenza che adesso mi ricordo in confronto a quelli della PSP è che su PSP avevano messo dei filmati in CGI che erano delle intro abbastanza spettacolari che qua invece non ci sono e quindi in un certo senso appunto è più fedele allo stile di quelli vecchi ma mostriamo i nostri cristalli questa scena mi mette un po' di ironia perché è una cosa molto simile all'intro appunto di Stranger of Paradise che appunto era il prequel o meglio è il prequel fatto 20 anni dopo di Final Fantasy 1 anzi quasi 30 anni dopo più di 30 anni dopo 35 anni dopo ogni tanto mi metto a contare perché questo è dell'87 e quindi sono 35 anni effettivamente di Final Fantasy anche su Tetrim appare il logo dei 35 anni e quindi sì anche questi erano stati fatti inizialmente per un anniversario e mi spiace che ci abbiano messo così tanto ad arrivare su console ma sono davvero davvero tanto combattuto da rigiocare completamente o meglio li ho presi perché li volevo perché appunto volevo provare queste nuove versioni che hanno molte cose in più il lettore musicale la gallery appunto alcune funzioni extra che facilitano il gioco e un miglioramento grafico anche se alcuni di voi non potrebbe non sembrare però effettivamente sono stati ricreati per essere una versione non proprio pixel perfect però comunque molto più godibile di quella che è la vecchia versione rigiocata adesso perché se mettete anche la versione PS1 su un televisore 4K o lo giocate a finestra al centro piccolissimo oppure vedete praticamente un gioco che sembra Minecraft questo invece è molto più funzionale soprattutto per i fondali sono molto belli non deludiamo il re la ballerina in città sa molte cose cioè questi erano i piccoli diciamo consigli perché il gioco effettivamente non ha un diario era uno dei primi JRPG anzi proprio quello che ha creato il genere e perciò anche qui possiamo un po' girare il castello prima capire come entrare in certe stanze bisogna fare tutta diciamo una sorta appunto di di percorsi qua ci sono altri personaggi con cui parlare ma a livello narrativo il gioco era molto minimalista e quindi bisognava parlare con la ballerina per avere dei dei consigli fondamentalmente perché ti potevi bloccare il giorno d'oggi credo che non mi bloccherei perché bisogna alla fin fine andare in dei luoghi ben precisi e la mappa anche se può sembrare grande in realtà ha come molti Final Fantasy vecchi un continente bello grosso con tre città fine l'unica cosa appunto è capire dove andare cosa fare qua siamo in città nell'in appunto potevamo dormire per curarci e soprattutto salvare e questi erano per così dire tutorial anche questi non mi ricordo se c'erano nella vecchia nella vecchia versione e il fatto che sia in italiano me lo fa godere meglio perché quando li avevo giocati su PS1 effettivamente il mio inglese era abbastanza maccheronico e ancora adesso non è che sia tanto migliorato quindi la trama dei primi soprattutto l'avevo scorsa molto velocemente e invece poi diciamo il 4 il 5 il 6 li avevo abbastanza goduti perché avevano anche dei personaggi molto più memorabili basta pensare qua appunto non abbiamo neanche il nome del personaggio era il personaggio neutro che andavi a creare come fosse diciamo il tuo avatar poi questa cosa è scomparsa perché hanno visto che andare sono uscito perché mi sono distratto e tra l'altro c'è l'autosave quindi poi ci sarà anche il carica il carica no ah no qua il salvataggio rapido possiamo fare anche un salvataggio rapido in città che è una cosa nuova perché all'epoca si poteva salvare solo sulla mappa o quando andavi a dormire tipo nella taverna se non ricordo male erano gli unici punti di salvataggio quindi erano molto obbligati adesso c'è anche invece il salvataggio rapido e sulla mappa sono indicate diciamo le varie osteriel l'armaiolo il fabbro la ballerina sa tante cose però non mi dice niente vediamo comprare non zero compriamo due pozioni tanto per curarmi quindi la tenda era anche una cosa molto utile per curarsi e poi ho fatto una cagata a spendere dei soldi perché appunto dovevo vedere prima se potevo migliorare l'equipaggiamento e quindi era una cosa era una pochissima il nunchaku per adesso la precisione scende però è molto meglio questo anche mi sa che non c'era nei vecchi grazie vediamo le armature ma poi ogni tanto vedere se c'è dei soldi da rubare che era una cosa che aveva inventato anche di Final Fantasy di entrare nelle case e andare a prendere tutto quanto quindi in realtà la cotta di maglia per il nostro eroe e l'armatura di cuoio cavolo cavolo che differenza la cotta di maglia mi porta 15 invece l'altro porta 4 ok va bene ho meno schivata però resisto un botto in più e insomma anche l'effetto dell'acqua dello scorrere può non sembrare ma se questo fosse stato l'originale all'epoca si sarebbe parlato di grafiche incredibilmente realistica e cose del genere non ce l'ho come magie non può usare magie non ce l'ha questo non me lo ricordavo era così anche quello vecchio che dovevi equipaggiarle mettiamo egida compriamo qualcosa anche di magia oscura fuoco mi piace essere aggressivo questa non me lo ricordavo a livello di gameplay forse mi confondo con gli altri che appunto imparavano le magie salendo di livello e diciamo che qua non c'erano appunto missioni secondarie o cose particolari c'erano alcune cose per le armi ma erano cose appunto quasi segrete perché non c'era bisogno quindi questo serviva forse per togliersi gli status alterati ok direi che abbiamo visitato tutto scontri non attivi scontri attivi scusa scusa no non c'è quello per velocizzare e lì no c'è la velocizzazione dello scontro però l'ho ho fatto così ma gli altri comandi le musiche sono sempre belle non ci posso ancora posso andare praticamente solo dall'altra parte quindi adesso per visto che sono in superiorità avendo comprato le cose mi viene voglia di rigiocare la vecchia versione per ricordarmi se effettivamente era così e quello che dicevo prima di perdermi scusate è che queste nuove versioni sono appunto dei giochi singoli e quindi ognuno ha il suo set di trofei che va dai tipo 25 40 trofei e anche con il platino i primi titoli tra l'altro sono da quello che ho visto platinabili molto facilmente perché richiedono quasi esclusivamente di finire la storia quindi sono tutte cose legate alla storia ad arrivare tipo al livello 99 e al fatto di completare il bestiario che forse è la cosa un po' più difficile perché alcuni tipi di mostri sia per il farming che per gli oggetti appunto che lasciavano si trovano solo in determinate zone e perciò bisogna anche diciamo dargli per così dire la caccia erano le uniche cose segrete e mi piace un casino come hanno ricreato le animazioni perché non hanno esagerato perché comunque Octopath Traveler e anche Live Alive mi piacciono un sacco però hanno ricreato molto modernizzati soprattutto Live Alive che è anche quello già fatto il preorder ed esce a fine mese ho visto qualche diciamo filmato dei vecchi titoli e sullo SNES era appunto molto pixeloso ma comunque bello come art invece la nuova versione la remastered è realizzata con i fondali tridimensionali e un sacco di effetti di luce in più diciamo che il concetto di remastered di pixel remastered è nato appunto con questi Final Fantasy con questo con il primo in particolare e poi andata a migliorare con giochi come Octopath Traveler e la remastered di Live Alive quindi sono davvero molto soddisfatto nonostante il prezzo ho fatto uno short per far vedere diciamo l'acquisto e il bundle con sei giochi più gli avatar e i e i temi per PS4 che sono tra l'altro in in combo solamente fino a fine maggio dopodiché saranno a pagamento a parte costano 75 euro 74,99 6 giochi quindi la media è un 12 euro però ci sta perché comunque ne vale la pena secondo me appunto non solo per come sono i giochi in sé che sono davvero degli ottimi JRPG old school ma anche per il fatto che effettivamente sono dei titoli molto ma molto validi gli hanno rimasterizzati bene anche l'effetto dell'oceano può non sembrare ma è davvero bello fatto così adesso voglio livellare ancora un po' perché sono un bimbo e soprattutto nei vecchi JRPG dovevi essere ben preparato quindi davvero sono molto interessato al giocarli completamente e platinarli per avere così il platino di tutti i vecchi Final Fantasy perché avevo platinato Final Fantasy 7 quando l'avevano fatto ero abbastanza vicino al platino di Final Fantasy 8 ma poi per il gioco di carte mi ero stufato invece Final Fantasy 9 ha alcuni trofei che sono davvero fatti male soprattutto il fatto di Excalibur 2 che va fatto a tempo mi dà fastidio quindi non penso che lo platinerò mai anche se mi fa piacere rigiocarlo e purtroppo devo dire che dei Final Fantasy moderni non ne ho platinato praticamente nessuno perché avevano dei trofei abbastanza allucinanti in alcune cose però li avevo finiti tutti perché mi piacevano l'unico che potrei platinare volendo con un po' di sforzo è il 15 che mi è piaciuto un sacco contrariamente a tanti altri giocatori però appunto non è una cosa che voglio fare in velocità questo invece come lunghezza comunque a livello di trama di gameplay in sé si va intorno alle 20 ore proprio perché non hanno cose secondarie non hanno sfide impossibili quindi noi facciamo no così torniamo alla schermata del titolo volevo vedere come è fatto il bestiario infatti si è sbloccato con ti indica anche dove sono i mostri nella mappa cosa molto carina perché ti fa capire quando vuoi fare il farming dove andare a prenderli questa è una cosa interessante e ti dà anche tutte le loro statistiche cosa sono vulnerabili e quali oggetti rilasciano questo rilascio la pozione ad esempio quanti ne ho sconfitti ci sono anche i trofei per sconfiggere un tot di nemici ed è carino che ti faccia anche il contorno dietro diverso bello davvero molto bello sono 128 nemici da trovare andando in giro andando a ripristinare i 4 cristalli corrotti e niente sono davvero soddisfatto mi fa davvero molto ma molto piacere averli presi sotto una spesa che non mi ha pesato più di tanto perché l'ho fatta mi ha dato noia più che altro che gli abbiano fatti uscire nel tardo pomeriggio del 19 perché è uscito il 19 aprile tutti insieme e ho aspettato anche un po' perché non c'era subito disponibile il bundle e poi c'era scritto appunto di non fare acquisti doppi perché erano presenti anche in un bundle e però il bundle subito non c'era l'hanno messo poco dopo mi ha dato un po' noia perché effettivamente se li avessi avuti al mattino avrei potuto fare appunto sei video perché anche io non aspettavo che fossero separati erroneamente pensavo che come per altri giochi nonostante siano sei fossero raggruppati insieme mi aveva fatto piacere scoprire che i trofei erano appunto singoli per ogni gioco con tanto di platino però non mi aspettavo che li vendessero proprio così singolarmente boh credevo che un po' come valkyrie profile ennet utilizzassero l'emulatore in stile playstation classic che per l'ennet ad esempio è così anche se non fa parte di quel servizio perché è venduto a prezzo pieno senza l'offerta eppure ci sta comunque secondo me meritano tutti adesso pian piano vedrò di registrare tutti i video e poi pubblicarli un po' alla volta per anche non intasare il canale visto che sto anche caricando un botto di gameplay di horizon visto che l'ho finito l'ho platinato perché l'avevo lasciato a metà tempo fa e adesso mi sto dedicando al dlc quindi anche di quelli poi farò un po' di gameplay però ci tengo anche a fare le recensioni o meglio le prime impressioni di ogni singolo final fantasy perché meritano e in questa nuova versione secondo me meritano ancora di più il fatto che sia in italiano mi fa proprio gasare tantissimo anche se in realtà questi sono quelli che hanno meno diciamo trama meno scritte da tradurre e da comprendere almeno i primi però è un piacere perché una volta tanto vedi che nel rimasterizzare un gioco e modernizzarlo hanno anche pensato di farlo in diverse lingue e non solo come all'epoca in inglese basta quindi sono davvero soddisfattissimo di questo acquisto davvero entusiasta non so se si nota perché ho un po' di mal di gola e quindi non riesco a urlare esagerare più di tanto però davvero davvero una bella bella cosa e pian piano farò i video di tutti ve lo prometto quindi se questo video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo come al solito ultimamente vi consiglio di iscrivervi al canale se non lo siete già perché così verrete avvisati appunto quando pubblico i nuovi contenuti sia di gameplay che i vari trofei che spammo in giro anche perché appunto mi fa piacere condividere sul canale i vari trofei importanti che sto facendo ho platinato anche il primo coffee talk visto che sta per uscire il secondo e insomma io sono davvero davvero soddisfatto e vi consiglio queste pixel remastered perché anche se possono sembrare dei giochi datati e vecchiotti che a livello di gameplay non hanno a che spartire più di tanto con i jrpg moderni sono appunto quello che ha forgiato i giochi che ci piacciono oggi e secondo me per un livello qualitativo e artistico sono ancora adesso davvero giocabili quindi per adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video e vi aspetto